Ciao creatura, io sono Eccate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Cosai, A-S-M-R. Siamo al capitolo 5 della regina di cuori e proseguiamo. Prima notte a palazzo, dobbiamo incontrare il principe, ma c'è un altro contendente. Capitolo 5. Ok. Il pubblico applaude mentre il principe Jonathan sale sul palco. Allunghi il collo per vedere meglio. Buonasera Lady, è orribile. Vabbè. Le donne attorno a te arrossiscono e si stringono nelle braccia. No, capisci. No, capisci. Non ho poco affitto. Non capisci perché reagiscono così effettivamente. Tutto questo per un ragazzo carino. Ma dov'è chi è carino? Strano. È bello vedere. Devo fare una voce per il principe, ma non la so fare qui. È bello vedervi tutte qui. Questa sera riconosco quasi tutte. No, se ve lo facciamo con le avemoce. È bello vedervi tutte qui. Questa seva riconosco quasi tutte. Il principe. Il principe scruta la folla. Il suo sguardo cade su di te e sorride. Ma vedo che ci sono anche alcune facce nuove. Capisci che tutte hanno seguito il suo sguardo fino a te. Cerchi di non arrossire. Vovei anche ringraziave. Mi amave. Adatto a vegno di Shalosilvel vent'anni della sua vita. Era semplicemente il mio dovere. E spero di seguire le tue orme, anche se so quanto siano difficili da seguire. La tua dedizione per il regno potrà essere mostrata quando salirai al trono. Esatto, ma dove non vedo l'ova di assumere il ruolo con una vergina meretevole al mio fianco. D'accordo. So che voi, Lady, non vedete l'ora di incontrare il principe. Vi prego di essere pazienti mentre va al suo giro. Le Lady iniziano a chiacchierare fra loro in eccitamento. Dopo la fine del discorso, il principe scende fra la folla. Alicia, ti si avvicina di suo piatto di nuovo. C'è qualcosa che dovrei sapere. Non credi che sia bellissimo? Ah, aiuto. Deve esserci qualcos'altro oltre al suo aspetto. Beh, sicuramente. Dagli una possibilità. Lo farò, ma fino ad ora cosa posso dire? Non mi ha impressionato tanto. Scherzi. Sembra così in suggestione di sua madre. E non sembra sicuro di sé e del suo comando. Non riesco a credere che tu sia l'unica che non stia cadendo ai suoi piedi. Non sono così disperata. Ecco perché. Credo ti servano gli occhiali. Antonio, c'è una ragione per cui tutte qui hanno gli occhi a cuoricino. Ok, ammetto che è carino. Ma mi piace conoscere un ragazzo prima. Non sono una che salta addosso come un gatto selvatico. Pavli di me per caso. Principe Gionatone. Continuo le luci. Ti volti e vedi il principe Gionatone. Che si avvicina a te. Ha il suo sorriso da cattivo ragazzo. Ehi. No. Ehi. Ciao. Ehi. Scatta. Sei spaventata. Scatta perché stavamo parlando male di lui praticamente. Me lo trovo dietro. Vorresti che parlassimo di te? Mi leggi nel pensiero? Non mi aspettavo che fossi così esubevante. Sono me stesso. Vabbè, maschera. Lo vedo. Mi piace. Allora, com'è che non ti ho mai vista prima? Alicia ti va un pollice in su mentre scappava via. Il principe ti sorride. Hai la sua totale attenzione. Non sono mai stata qui. Ah, che casata a Bardiani. I miei genitori abitavano a Highbride. Affascinante. Una vecchia casata vedovna a corte. Esattamente. Me ve covuto di tua madre. Madwe. Scusa. Una lady adorabile come te. Sei gentile, sei cattiva. Sei gentile, ha detto una cosa gentile di mia madre. Sei così gentile. Sono ammaliato dalla tua conoscenza. Una faccia come la tua si distingue nella folla. Mi fai arrossire. È bello sapere che non sei completamente immune al mio fascino. Non adularti. Non lo fai mai. Il principe scruda stancamente la sala. Suppongo sia meglio... Ah, scusa. Suppongo sia meglio continuare. Ci sono un sacco di lady da salutare. La maggior parte degli uomini sarebbe lusincata di avere così tante. Mogli. Mogli credo potenziali. Di asti cubo. Che bevo uva? Ho in mente solo una persona. Potrei chiedere chi? Fof, se te lo dio va un'altra volta. Il principe prende la tua mano e la bacia dolcemente. Goditi la sevata, Antonia. Cavolo, dovevo scegliere un nome con delle R. Non ricordo di averti detto il mio nome. Non lo hai fatto. Ho chiesto di te. Perché questo dov'ai scoprire... Scoprivo. Prima di poter fare altre domande, il principe continuò. Con i suoi saluti. Dannazioni, Jonathan. E' sicuramente uno solo. Lasciata a te stessa, sai che è ora di provare a partecipare alla festa. Sarebbe meglio se conoscessi almeno una persona qui dentro. Cerchi Ethan nella folla, senza fortuna. Bene, immagino potrei provare con un'altra persona. Trovi Rosetta nella sala d'ingresso, con una calca di altre ledi. Ethan mi ha detto di non andare lì, ma non ho molta scelta. Ti dirigi verso la sala d'ingresso, incrociando le dita, sperando di riuscire a fare una buona impressione questa volta. Ti avvicini a Rosetta con cautela. Ti guarda e la sua faccia si trasforma in un cipiglio. Ledi, lei è la donna di cui parlavo. Non mi ricordo com'era la sua cosa. Le ledi si voltano verso di te, disgustate. Scusati, scatta contro di lei. Scusati perché siamo noi che siamo inciampate sopra. Sono venuta per scusarmi di nuovo. Ti ho già detto di starmi lontano. Ho fatto un errore stupido. Succede a tutti. Non è me. Pensavo solo. Pensavi male. Ascoltami e ascolta bene. Non sei parte di questa corde. Nessuno ti vuole qui. Non parleremo con te, quindi puoi anche levarti dai piedi. Ho lo stesso diritto di stare qui come tutti gli altri. In tal caso ce ne andremo noi. Non provare a seguirci. Ti senti sollevata vedendo Rosetta alle sue ledi tornare nella sala da ballo. E adesso? Stai da sola, desiderando di andare a dormire. Per la tua gioia un viso familiare appare poco dopo. Ehi straniero, come va? Nessuna ledi vuole parlarmi. Rosetta le ha tutte nel palmo della sua mano. Mi dispiace. È una nobile rottura di scatole. Hai ragione. Tirati su. Potrebbe andare molto peggio. Non portariella. Vorresti che dimostrassi le due stanze o la mia collezione di farfalle? Mi piacerebbe tanto. Grazie. Ti devo un favore. No. La tua compagnia è un premio sufficiente. Izan ti offre il suo braccio e lo prendi. Suona male. Lasciandoti guidare ai tuoi quartieri. Sesto capitolo. Izan ti porta su belle scale e per un lungo corridoio. Con ai lati ciò che pensi siano le camere da letto. Grazie ancora per avermi portato alle mie stanze. Nessun problema. Sei sicuro di non voler tornare dagli altri? Ad essere sincero, non mi piacciono tanto le feste. Davvero, sempre un festaiolo. Già, a giudicare. Sbaglio. Smetti di provocarmi. Pensavo solo che fossi più estroverso. Mi piacciono le feste, ma non sono amante di quelle di corte. Come mai? Di solito siamo solo io e Jonathan. Siete molto amici. Sì, siamo migliori amici da anni. Niente ci può separare. Di solito. Buona sapersi. Quindi nessuna lady alla corte ha attirato la tua attenzione? Ah, nessuno di loro mi guarderebbe, anche se mi piacesse. Sono sicuro che qualcuno lo stia facendo. Basta che non pensi che parliamo di noi. Mettiamo. Lo sono. Facciamo questo. Credi davvero? Assolutamente. Il principe è entusiasmante ora. Ma ti assicuro, l'interesse finirà. Merita l'affetto della corte, ma vorrei che mi lasciasse una lady o due. Ah, ah, non preoccuparti. Quelle che hanno il piacere di conoscerti sapranno vedere il tuo fascino da un miglio. Comunque sia, basta parlare di me. Ti stai abituando. In verità, lo sto trovando molto difficile. Può essere difficile abituarsi, dato che sei a corte per la prima volta. Sei sempre stato a corte. No, mio padre è caduto in disgrazia ed è stato esiliato dalla regina. Oh, mi dispiace. E mio padre è stato avvenenazzo dalla regina. Ti è andata meglio, sai. Non preoccuparti. Era un uomo orribile. Mia madre è tornata qui con me dopo essersi risposata. Quindi sei cresciuto in una città normale. Sì, come te. Sembra che abbiamo molte cose in comune. È incoraggiante avere qualcuno qui. Che può capirmi? Beh, se dovessi avere qualche problema, sai dove trovarmi. Grazie, sei stato così gentile con me. Non preoccuparti. Troppo delle altre ledi. Non vale la pena sprecare il tuo tempo. Ho passato anni con loro. E sono tutte completamente pompose. Saresti meglio da sola. Staresti meglio da sola. E ricorda, sono tutte qui per competere. Nessuna di loro ha vere amiche. Allora, di chi mi posso fidare? Fidati di te stessa e di me, se vuoi. Non ho motivo di pugnalarti alle spalle. È proprio quello che direbbe un traditore. Smettila di stusticarmi. Sto cercando di essere gentile. D'accordo, ti lascio sola. Ethan si ferma fuori da una camera da letto con il tuo nome scritto in una bellissima calligrafia sulla porta. È così raffinato. Starai qui fino all'incoronazione, poi potrai trasferirti nei quartieri del principe o tornare a casa, immagino. Beh, sarà meglio godermi tutto il tempo che ho allora. Questo è lo spirito giusto. Sembra che Ethan voglia dire qualcosa con un rossore sulle sue guanze. Va tutto bene? Sì, scusa, ti lascio sola. È stato bello incontrarti stanotte. Ethan, Ethan, ti lascia e fai un respiro profondo. Entrando nella tua nuova camera da letto. Wow, è bellissimo. Non riesci a capacitarti della bellezza e delle dimensioni della tua nuova camera da letto. Quasi inciampi sulla tua valigia. Dalla sorpresa. Wow. Ammi riletto a pal d'acchino, grande così quanto la tua stanza di casa. C'è un piccolo lampadario sopra la tua testa. Credo che meno sarei dovuto aspettare un castello. Qualcuno bussa la porta. Antonia, è la stanza giusta? Sì, vieni. Questa stanza è incredibile. Non è vero? È fantastica. Non riesco a credere che vivrò qui. Allora, come va? Non benissimo, ad essere sinceri. Quanto male. Ecco, nessun'altra lady vuole parlare con me. Non sono per niente adatta a questo posto. E non so come comportarmi. Vediamo. Non è il modo migliore di iniziare, chiaramente. Ho solo paura di stare sprecando il mio tempo. Cos'altro faresti se non fossi qui? Lavorirei e prenderei soldi, tipo? So che sei fuori dalla tua comfort zone. Mando tutto bene. Lo spero davvero. Ho incontrato il miglior amico del principe. Sembrava gentile. No, sembra. Sembra gentile. Ethan, oh sì. È molto carino. Ci vediamo spesso. Siamo buoni amici. Mi piace. È un amico. È un amico. Ho l'impressione che sarebbe un buon amico. Frianzone, forever. Assolutamente. Ti guarderebbe le spalle tutto il giorno. Almeno so che ho qualche persona su cui contare. Hai dannatamente ragione. Ethan ed io possiamo farti andare avanti. Sto apprendendo la cosa un giorno alla volta. Sembra intelligente. Possiamo mettere una spunta vicino ad oggi. Sono già esausta e sono qui solo da un paio d'ore. Vuol dire che non hai l'energia per una piccola avventura. Che tipo di avventura? Pensavo di poterti almeno mostrare la mia conoscenza del castello. Vorresti dire a lavorare con te. Il mio turno è finito. Ma possiamo intruvolarci nelle cucine. Ci saranno avanti. Ero troppo nervosa per mangiare prima. Ma sono io. Assolutamente. E io potrei farti conoscere un gioco. A cui lo staff della cucina gioca spesso. Vuoi andare all'avventura? Assolutamente non se ne parla. Io direi assolutamente. Sì, mi piacerebbe tanto. Sono così felice che hai detto sì. Sarà fantastico. Beh, vado dove ci sono gli snack. Fammi strada. Intruvolate nel castello. Entri nella cucina con Alicia. Sempre che ci sia via libera. Tutti gli chef sono andati via per la notte. Bene, sta morendo di fame. Vediamo che avanti riusciamo a scroccare. Alicia si dirige verso un enorme frigo. E guarda dentro. Credo che questo ti piacerà. Che miseria. Ma io volevo qualcosa di salato però. Dal frigo Alicia toglie fuori un lungo piatto di mini cupcakes. Credo di aver spavato un pochino. C'è talmente tanta scelta. Quale vuoi? Che dolce scegli? Vabbè, non ho neanche a dirlo. Cioccolato. Vanilla. Cioccolato. Cioccolato e nocciola. Dai un morso al dolce. I pezzi di nocciola che scrocchiano fra i denti. Oh my god. Cos'è oft? La glassa al cioccolato è ricca e dolce sulla tua lingua e non puoi fare altro che sospirare. Il paradiso. In realtà ne vorrei altra. Penso che questo gioco ti piacerà allora. Che gioco? Ok. Stai dall'altra parte della stanza. Ok. Vai verso le file di forni e frigoriferi a pochi metri da liscia. E adesso? Ora proverò a fare centro nella tua bocca con la torta. Davvero? Questo è il gioco? Non abbiamo molta scelta di intrattenimento qua giù. Questo è sicuro. Sitta e apri la bocca. Ci lancio dentro la tua bocca. Beh, questo non è un comportamento da liti. Riti mentre appare Ita. Sorridendovi. Che ci fai qui? Un ragazzo non può fare uno spuntino di mezzanotte. Immagino che anche voi siate qui per questo. Beh, forse mentre sei qui puoi unirti al nostro gioco. Non ditemelo due volte. Prendi la mira, liscia. Apri la bocca. Facendo fatica a non ridere mentre Alicia prepara la torta. Pronti? Prendi la mira. Al fuoco. La torta vola in aria, passandoti vicina sulla destra. Lanciati contro il dolce e muoviti a destra. Io mi lancio contro il dolce, sappiate, no? Mentre saldi sulla torta. Mentre saldi sulla destra, la torta vola dritta verso la tua bocca. Ce la farà. Ce la farà. Ti chiedo scusa se la vicino a fare rumore. Non so cosa fare. Chiudi la bocca. Chiudi la bocca attorno alla torta, contorgendoti vittoriosamente. E' difficile capirti se parli con bocca piena. Non puoi fare altro che ridere e gli altri suoniscono a te, mentre fai fatica a finire quella delizia senza strozzarti. Tocca a me. Lancio io. Ok, ma devo avvisarti. E' molto bravo questo gioco. Ho inventato il gioco. No, non ho dubbi. Come inventato, dammi un po' di credito. Riti mentre i tuoi amici batti beccano. E continui a goderti il tuo momento di relax e divertimento. Beh, è stata una serata divertente. Prima di andare vorresti qualche consiglio per aiutarti. Sì, qualsiasi cosa voglia offrire sarebbe fantastica. Ok, primo consiglio. Gettati da una sola. Gettati da sola le bevande. Ci sono state molte occasioni di avvelenamento in cui i servitori hanno messo qualcosa nei bicchieri. Solo la regina ha un assacciatore per il vino. Perché qualcuno vorrebbe avvelenarmi? Sei in una corte piena di lady competitive. Tutte vogliono la stessa cosa. Non ti seguo. Ma sì, ma che genio di qualunce è. Queste donne sono fatte di soldi. Se vogliono abbattere la concorrenza, devono solo parlare. Pagare. Pagare. Pagare è una grossa somma. Dimmi che non lo faresti mai. Certo che no. Anche se ho messo dell'aceto nel vino di qualcuno una volta. Alicia. Cosa? Il vino sapeva di aceto comunque. Se lo meritava. Ok. Quindi immagino che non berrò mai più. Qualcos'altro? Ok. Dunque. Sai quale posata si usa per prima? Al tavolo. Quale posata userai per prima? Dall'esterno verso l'interno. Dall'interno verso l'esterno. Dall'esterno verso l'interno. Dall'interno verso l'interno. Come dall'interno verso l'interno? Mi sono confusa. Vabbè. Mettiamo dall'esterno verso l'interno. Vai. Dall'esterno verso l'interno. Bene. La regina apprezzerà la buona educazione a tavola. Almeno so fare una cosa bene. Sarai una vera lady. In me che non si dica. Beh. Spero ti sia stato di aiuto. Mi sento molto più informata. Grazie. Riposa di ragazza. Ti aspetta una grande giornata domani. Ti arrampichi nel letto. Accoccolandoti al piumone. Caldo. Con un sospiro di stanchezza. Chiudi gli occhi e scivoli nel sonno. Durante la notte. Vieni svegliata da sussurri nel buio. Sembra un canale. Sennale. Ti siedi con la vista nebbiata. C'è qualcuno. Il murmurio e le risatine diventano più forti. Poi qualcuno ti mette una mano sulla bocca. E inizi a urlare. E ti lascio con questa curiosità. E ci vediamo nel prossimo episodio. Domenica prossima. Se la serie ti piace tanto tanto. La facciamo in settimana. Fammelo sapere con un commento e con un mi piace. E... Io ti saluto. Ciao creatura. Buonanotte. Buon relax. Ciao creatura.